benvenuti in un nuovo video di simon gaze oggi la casa dei miei questo quadro cosa ci vedete oggi voglio farvi un discorso che solamente interesserà a molti di voi come trovare lavoro come ottimizzare il vostro curriculum vita per trovare lavoro più facilmente con una singola cosa il singolo segreto per un curriculum perfetto che vi porterà ad avere più lavori ovviamente ci sono una serie di disclaimer da fare li faremo in questo video allora prima di tutto dobbiamo capire una cosa le persone tendono a sintetizzarci con una frase voi pensate a questo canale voi se dovesse sintetizzare questo canale e me come mi descrivereste più o meno potreste descrivermi con una frase voi avete un qualcosa che vi suscita per esempio potrebbe essere quello che fa le i paragoni con le ragazze potrebbe essere il copywriter potrebbe essere quello che faceva ingegneria informatica potrebbe essere quello che parla di ingegneria informatica c'è una frase ok allo stesso modo fanno le persone che valutano il curriculum io non ho fatto un curriculum in vita mia che non aveva questa iterazione di qualche tipo per esempio tizio cerca qualcosa e dice ma tu fai punti quindi seppure ci credivo magari avevo scritto ci oppure ama quindi tu fai big data ama quindi tu fai ai ama quindi tu fai ai però visto che fai anche java quindi sia un programmatore java quindi che succedeva che loro sceglievano una frase per descrivermi in base a quello che serviva loro io come errore mettevo tutte le mie caratteristiche perché dicevo metto l'amo un po un po un po un po un po un po qualcosa prenderò che è anche vero però ovviamente non sembri quella cosa lì vi faccio un altro esempio amico mio che è iniziato a lavorare a milano da poco ha trovato tra l'altro un lavoro che gli fanno fare quasi tutto smart working gli danno 800 euro quindi non grande però considerate che è un part time lui sta continuando l'università perché lui ha scritto nel curriculum bim specialist e lui vuole fare il bim specialist che è una roba di architettura quindi lui ha mandato questi curriculum senza esperienza senza niente ma aveva questa singola frase e quindi persone che cercavano un bim specialist dicevano a voglio di non sottovalutate quanto è immaginatevi un curriculum vostro dove invece di essere scritto developer una lista di cose che avete fatto e cose a caso ci sia scritto faccio esempio java developer qualche certificazione java e tutto il curriculum è scritto per ottimizzare il posizionamento come java developer per esempio vi rendete conto che una persona sta cercando un java developer e vede voi sicuramente vi nota rispetto a chi ha fatto un generico curriculum di una pagina in cui è scritto cazzate su cazzate su cazzate volete lavorare solo in inglese per qualcosa mettete che magari premete su quello su tutto il curriculum quindi questa cosa qui perché funziona in realtà funziona in tutte le in tutti gli ambiti che vorreste fare se voi volete aprire un canale youtube fate la stessa cosa sente cercate di sintetizzare tutto il vostro canale su una sola frase io per esempio all'inizio ero quello che commentava le canzoni stavo crescendo a un certo punto a fare cose a caso tutte le cose mi passavano per la testa non ha funzionato più a un certo punto sono ritornato a fare un solo focus ingegneria informatica stavo crescendo di nuovo a un certo punto è diventato un diario di tutti i concetti che mi andava di conservare è calato a picco di nuovo o comunque va alta allenando perché ovviamente ogni volta che tendo verso quella direzione lì aumentano le visualizzazioni ogni volta che vado a caso cedono vi faccio un altro esempio il macbet ha una frase e ora più o meno diciamo non è proprio ufficiale questa cosa ma la famiglia ti può portare alla rovina ogni libro se voi ci riflettete ogni libro ogni film fatto bene che ha avuto successo ha sempre una singola frase che lo descrive una singola frase che racconta che cos'è e se non ce l'ha come per esempio no way home perché no way home è solamente una colla per portare a chiudere una parte di capitoli perché sarà diventando troppo forte spider man chiudere la parte iron man e partire con un reboot praticamente per preparare il reboot quindi ovviamente è un'operazione puramente di marketing e quindi non ha una linea e quindi è un film di merda perché per questo perché non c'è una cosa riconoscibile che ti porta e a dimostrazione che è importante farlo vi dico anche un'altra cosa è importante farlo anche perché comunque le persone sceglieranno quella frase che ho detto all'inizio cioè che fatto che le persone comunque identificheranno con una frase è vero sempre io ho incontrato gli psicologi sul treno eravamo l'essere proprio proprio salottini a quattro poltrone io stavo io gli psicologi ok e vedevo che erano tutti vestiti uguali io non li conoscevo io ho detto ah ma siete una crew e loro fanno eh sì sì certo lui me lo dice il chitarrista non lo so insomma non quello là più alto quello più basso mi dice eh sì sì siamo i psicologi aspetta aspetta io ho fatto sì aspetta 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 io però a voi vi so ma siete tipo il postino che un altro gruppo molto più piccolo ha fatto tipo il postino ha fatto tipo a nera nude e oro vestito e certe cose così quindi per dire che per me i psicologi sono quelli tipo il postino che non è assolutamente identificativo di loro questo cosa voglio dire che le persone comunque ti sintetizzeranno sempre in una frase ora o la fai scegliere a loro e potrebbe non piacerti oppure la scegli tu e una volta che l'hai scelta una volta che hai penetrato nel mercato poi puoi aggiungere altre cose vi faccio altri esempi pasta armando la pasta trafilata a bronzo big luca quello dell'i ticket ora si è allargato ma lui all'inizio i primi due anni era solo quello dell'i ticket cioè ti insegnava a vendere dei prodotti online a mille euro che sembrava una cosa assurda cioè perché mi dovrebbe dare mille euro a me che non so un cazzo di nessuno e lui invece l'ha insegnato che veramente tutti gli stronzi del mondo possono chiedere mille euro ok facciamo un altro esempio devi 504 quello del basso poi si sono aggiunti altre persone che sono nel basso ma lui era proprio il tizio che suona il basso e è un oggettivo cioè non è che ci sta chi sa che da dire e lui era preciso e quindi poi che è successo che poi ha potuto iniziare a suonare un po la chitarra ha suonato un po il violino per qualche periodo ha suonato un po il flauto perché li può aggiungere perché ha un posizionamento così netto e forte che può aggiungere altri servizi se c'è una società per dire facciamo ad esempio Ray Dalio Ray Dalio all'inizio era quello delle commodity appunto lui lavorava solo su materie prime quindi quando lui aveva riuscito dall'Harvard Business School a differenza di tutti gli altri suoi amici dell'Harvard quindi con le stesse competenze di base lui è andato sparato sulle materie prime a cercare un lavoro nelle materie prime è diventato uno dei cento uomini più ricchi al mondo uno dei cento uomini più influenti uno dei dieci uomini più ricchi al mondo e forse uno dei fondi più importanti della storia perché era netto era netto su una roba se il mio canale il mio canale va avanti e va giù in base a quanto sono netto ora voi potreste dirmi che questa è la vera critica che si potrebbe fare questo approccio non so qual è questa mia frase io non ho una direzione specifica come faccio ovviamente è prevista una parte di esplorazione come fai a sapere chi sei se non hai esplorato ma l'esplorazione è comunque attiva quindi non sapete chi siete ma avete un'idea partite da quello partite da quello una volta deciso quello capirete se effettivamente fa per voi o no è inutile pensare ma la ragazza le piaccio non le piaccio ma l'altra volta mi ha risposto poi mi ha risposto tardi poi così baci vicino provala a baciare magari tre giorni fa veramente non voleva baciarti magari fra due giorni veramente non ti vorrà baciare più ma in quel momento se ti bacerà voleva baciarti quindi testa testa testare e troverai la direzione che fa per te ultimo esempio perché è venuto fuori tutto questo discorso perché mio fratello ovviamente stavamo parlando un po così di canali youtube stava pensando di canale dove mi parlava un po di suoi video che stava pensando di fare e allora io gli ho detto semplicemente ah quindi vuoi fare un canale così e lui fa no vabbè ma non è che voglio fare questo canale proprio così netto perché nel momento in cui non c'è una frase netta che ti identifica e la gente la mette a caso facendo delle associazioni che pensano loro la subisci quindi ora lui sa che alcuni video possono trasmettere questo messaggio che lui non vuole trasmettere perché non vuole andare in quella direzione quindi automaticamente alcuni video si scartano alcuni video si creano alcune idee partono quindi avere una direzione sempre può essere sbagliata si cambia io mi sono reso conto dopo che avevo raggiunto centinaia di migliaia di visualizzazioni che di fare i commenti alle canzoni non me ne sbatteva il cazzo non me andava di non mi andava di farlo non l'ho fatto più prendendomi le conseguenze ma scegliere una direzione provarla vedere se effettivamente aveva senso cambiare sempre